Il messaggio che viene dai simboli che sono proposti prima della Messa e sono i tre simboli della alza bandiera, della luce, la lucerna che viene accesa e della corona dall'oro. Sono un simbolo complessivo che indica la direzione di un popolo, di ogni popolo. Quindi l'amore per un paese, la nostra Italia, che non può essere dimenticato e che anzi proprio nella globalizzazione, ha l'opportunità di far valere ancora di più i valori della fraternità, i valori della solidarietà, i valori del dono della vita che i nostri militari defunti ci hanno testimoniato. E poi il messaggio tipicamente cristiano, cioè il pensiero che è dal cuore di Cristo che more in croce, che nasce un'umanità nuova, capace di donare non solo gratuitamente le proprie cose, ma di donare la vita. È quello che io auguro anche a tutte le nostre famiglie, a tutta la nostra città.